Sisteremo io e Chiara Pavoni, attrice Chiara Pavoni, a Suntagneo come autrice di questa sera e poi passeremo tra di voi o comunque cercheremo di intervistarvi per una rubrica di una radio e una tv online Shad Radio e TV Shad News del Movimento Anime di Carta di Emanuela Petroni. Città dall'università con la lode perché quando sei ragazza ti impegni e quindi ci credi in quello che fai, vai avanti, sei convinta, è quella strada giusta. Poi a un certo punto della mia vita ho avuto degli imprevisti, in sala parto succedono delle cose che non sono piacevoli e io comincio a riflettere che questo messiere tutto sommato non è proprio quello che avrei potuto fare e mi aspettano delle cose e delle situazioni che non mi piacciono più, nel frattempo avevo raggiunto i 30 anni quindi vedi le cose da un altro punto di vista, hai una famiglia, quindi cambia l'ottica con cui vedi le cose. Aspetto che l'ultimo figlio si iscriva alla scuola materna, quindi di avere più tempo libero durante la giornata e a quel punto mi iscrivo di nuovo all'università, questa volta però mi iscrivo a comunicazione per laurearmi in giornalismo esattamente 5 anni dopo. Una passione che avevo nel cassetto, che avevo da tanto tempo, perché la mia maestra all'alimentare già leggeva i miei temi che secondo lei erano eccellenti, quindi mi incoraggiava e mi sono portata dietro questa passione che poi nel tempo speriamo di aver messo a punto. Questo lo direte voi perché è il lettore che deve dare il giudizio. Quindi è una passione che avevo nel cassetto che poi magari grazie ad una situazione lavorativa non piacevole è emersa. Probabilmente se fossi stata bene dove stavano questo non sarebbe mai successo. In seguito a questa laurea poi ne ho presa anche un'altra in sociologia e adesso sto utilizzando questa seconda opportunità. Lavoro sempre nell'Asile ma ho cambiato tipo di lavoro. Che lavoro c'è adesso? Sì, un lavoro amministrativo perché comunque... Però la cosa bella è che... Cioè approfondendo sulla scrittura, il giornalismo e tutto il resto, no? Che anche su un giornale di latino. Che è locale, sì. La cosa bella che io voglio comunque ricordare sempre e tenere presente a tutti è il fatto che si può cambiare e che si possono fare delle cose anche se magari sono lontane dalla nostra aspettativa in quel momento. Cioè io sono partita con un'idea, poi strada facendo le cose possono cambiare ma non ci dobbiamo buttare o comunque farci prendere dal malumore come spesso succede ma anzi, spesso la vita ci offre una possibilità e spesso le possibilità non è sempre facile coglierle per cui preferiamo non fare o lasciare che facciano gli altri perché sono più bravi perché pensiamo che siano migliori di noi. Magari il tempo poi ci dà torto perché non sono per niente migliori di noi, anzi. Quindi forse questa fiducia che io penso di avere nella vita, questo fatto di mettersi in discussione quando magari le situazioni cambiano e questo momento... E questo è proprio il messaggio principale che io porto nel mio libro, proprio il fatto di osare di mettersi in discussione e di provare, almeno di provare perché penso che tutti noi meritiamo almeno una possibilità. E poi anche di realizzare i nostri sogni, no? Quello è proprio di un più. E quindi non smettere mai di credersi e avere il coraggio di sognare e mettere in pratica. Ma sai, siamo talmente... A volte questa frase si sente spesso in televisione, nei cinema, rimbomba e forse siamo abituati a sentirlo. Io no, io sono sempre stata commettata. È difficile farlo, sai? È difficile però se insisti nella direzione dei tuoi sogni, prima o poi dei risultati li hai. Magari non sono effettivamente quelli che ti sei preventivato in un anno o due anni che... Io mi ricordo che quando andavo all'università, perché comunque ho frequentato, anche se avevo qualche anno in più, ai ragazzini di 20 anni, con la mia bambina di 3 anni, che veniva con mamma, perché i bambini, basta che stanno con mamma, stanno belli, io, la bambina e l'orsetto, aveva un orsetto di peluche così grande, che era più grande di lei, prendevamo l'altro anno e venivamo a Roma ad assistere alla lezione. Non è una cosa che fanno tutti, non è una cosa che si fa di solito, però quello che voglio dire è che la volontà e la decisione di voler cambiare, nonostante le situazioni intorno possono essere diverse e possono essere non sempre ottime, il fatto di non lasciarsi andare... Vedere il positivo la cosa, certo. Ecco, io penso di essere in una situazione lavorativa e quindi mentale e quindi di aspettativa migliore rispetto a qualche mia collega che ha scelto di restare in quella situazione e di non cambiare, per oggi magari si prendono le pasticchette per dormire e quindi affronta il problema in un altro modo. Allora forse è più difficile sopportare una situazione pesante che ti infastidisce piuttosto che cambiare e magari prendere una strada che può sembrare difficile, in realtà poi ti migliora la vita. Sono scelte che vanno un po' ponderate, però secondo me bisogna avere il coraggio anche di guardarsi in faccia e di dire ma quello che voglio fare è morire o vivere in una maniera diversa. Vivere veramente, soprattutto. E senti, una cosa ti voglio chiedere a proposito della trama del libro, se ci vuoi illustrare un pochino in generale di che cosa tratti senza spoilerare troppo. E poi è una cosa interessante che dopo che ho letto il libro, ho letto delle critiche oppure anche la prefazione eccetera, alcune cose. E ce l'ha scritto che è in parte autobiografico, anche per il fatto che l'hai inventato a capri questo? No, 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 per il fatto che quando si scrive qualche scrittore mi potrà andare a confermare, non è possibile non scrivere di te stessa. Alla fine avviene raccontare una cosa che ti è capitata e fa forte proprio della penna. La penna va da sola, insomma, se la metti sul foglio le cose comunque si dicono, ci stanno e tutti gli scrittori alla fine mettono un po' della propria farina nel racconto che stanno facendo. Credo che sia una cosa normalissima. Prima di lasciare la parola a lei, volevo dire che la copertina si chiama Vittoria per due motivi principali. Prima di tutto Vittoria la protagonista e poi le vittorie che la protagonista riesce a perseguire nel corso della propria storia. Perché non è facile, come ognuno di noi, io credo se potesse raccontare in un minuto oggi la propria storia avrebbe chissà quante situazioni, no? Di morti, di situazioni lavorative, di tante cose che succedono nell'arco della vita, ma spesso quello che io dico sempre rimaniamo lì a piangere e magari non prendiamo in braccio le nostre ansie, le nostre cose governandole e portandole persone a direzione. Io spero che oggi riesco a dare questo messaggio, di prendere in braccio la nostra vita e di portarla avanti oltre il confine. Grazie. Allora, buonasera per Radio TV Chat News, questa intervista selfie, la trasmissione che stiamo portando avanti io e Chiara Paponi, quarta dimensione shock, l'eterno presente dell'arte e della cultura. Eccoci, Chiara ha già intervistato altre persone e io mi appropinco per intervistare Lara Di Carlo. Lara Di Carlo è una ragazza come me, anzi un po' anch'io più giovane addirittura. Quanti anni hai Lara? 32. A soli 32 anni ha già un progetto grande, no? Beh, sì, se ti riferisco a Bandilettere, la mia casa editrice che è nata ad aprile 2018. E proprio a lei, lei come imprenditrice sta portando avanti un progetto considerevole, le facciamo i nostri complimenti. Grazie. Ci vuoi parlare di qualche tuo successo letterario? Il mio successo letterario, ma è riferito ai libri che pubblico con la casa editrice, come potete dire? Sì, sì. Beh, senza dubbio adesso l'evento del momento è un libro di Giulia Porain, La stanza dei pensieri, perché lei è una scrittrice giovanissima che ha solo 17 anni, però scrive con uno stile maturo, ricercato, dotto e al tempo stesso scorrevole, ecco non sembra mai lo stile di una ragazza di sole 17 anni, è incredibilmente matura, ecco io sono veramente rimasta sorpresa quando ho letto questo libro. Ah, benissimo, dico avete fatto anche una bella presentazione alla sede della FUIS? Sì, abbiamo fatto da poco una presentazione alla FUIS e tra l'altro è stato un vero successo perché non credevo, c'è stato un pubblico numerosissimo, hanno riempito poi la scrittrice di domande e lei è riuscita a rispondere qua a tutte queste domande con una padronanza incredibile, è una ragazza di sole 17 anni, siamo rimasti tutti quanti sorpresi. Complimenti, ho potuto vedere delle registrazioni di quella presentazione, quella ragazza ha veramente talento. Parlaci anche di qualche cosa che hai scritto tu poi da vicino, no? Sì, che ho scritto io? Beh, diciamo che in questo momento ho in lavorazione un mio libro per bambini che si chiama Giada, poi libri che ho scritto precedentemente, raccolte di poesie, la prima si chiama Neve infuecata e la seconda oltre una finestra. Ho scritto poi anche un altro libro per bambini che si chiama Iris, anche se poi inizialmente sono partita dalla saggistica con un libro su Arturo Nofri. E diciamo l'opera che ti senti più vicina alla tua concezione artistica quale sarebbe? Alla mia concezione artistica, ma forse oltre una finestra perché rappresenta molto me stessa, perché dunque oltre una finestra può essere interpretato in due modi, da un lato di portare la propria interiorità verso il mondo esterno e dall'altra anche un mio desiderio che il mondo esterno venisse verso di me in un certo senso, quasi che entrasse in un certo senso nella mia stanza, che mi avvolgesse la natura e anche il mondo esterno che riuscisse a creare un rapporto autentico. Complimenti, noi abbiamo fatto anche una presentazione di questo libro, giusto? A casa di Chiara Pavoni nella sua sala delle performance, ce ne vuoi parlare? Ah sì, di quella presentazione? Beh è stata una presentazione molto particolare, diciamo con l'arte a 360 gradi, perché grazie l'attrice Chiara Pavoni e poi anche i musicisti pure bravi. Ecco, ma come siete tutte giù così? Perché non sapeva nessuno che ci riuscita. Siamo su, è complicatissima, stiamo su, è complicatissima, stiamo su, è una testa mozza. Ecco esatto, adesso siamo tutti su, siamo anche in una luce più bella. Basta, siamo veramente belle. Adesso possiamo anche salutare. No, invece diciamo l'appuntamento di Lara, che Lara farà una presentazione e... Sì, di 30 novembre. Il 30 novembre siamo ritornati tutte giù. Però è bello, perché tu ti aspetta... E se mi spingi la sposa io mi sto incendendo su quello, mi ricordo... Ah, ok, ok. Che dici? Allora siamo tutte stesse. Il 30 novembre, però si possono, insomma, aggiornarsi. Sulla tua pagina Facebook che è? Ah, la mia pagina Facebook è sempre Pandilettere, chiaramente mi trovate come Pandilettere. O comunque ho anche una pagina Instagram sempre di Pandilettere, insomma, basta che cercate Pandilettere e poi mi trovate. Questa è la rete scoperta. Esatto. E ci vediamo all'appuntamento della tua presentazione. Ripetene un attimino. Sì, il 30 novembre, sempre con la stanza dei pensieri di Giulia Porena, a Interno 4, in via della Lungara, 44. Ok, allora per Radio TV, Ciao The News c'è un saluto finalmente che mi trema la mano. Ci vediamo alla prossima occasione. Ciao a tutti! Ciao! ...un ventaggio che è per il postoperatorio del cancro al seno. Per una sua esperienza personale è stata motivata dalle sue forze personali per voler tutelare se stesse e le altre donne da un periodo molto delicato. E quindi ha progettato questo Crystal Bra, che è un reggiseno, un bustino ventaggio di cui vi parlavo. E niente, è stata la sua salvezza perché grazie all'arte, al designer, alla pittura, eccetera, ha avuto la forza di combattere il male. Ma adesso sta lottando, sta continuando a lottare perché non viene ascoltata nella maniera più consola. E quindi le servirebbe l'appoggio di alcune industrie che prenderebbero il progetto, perché altrimenti il suo è un lavoro sprecato. Cioè la sua ideazione e tutto quanto. Raccontate. Dimmi qualcosa a proposito di questo. Questa cosa sostituisce il vendaggio. Quindi togliamo i cerotti che fanno le piaghe, possiamo respirare. E' autoregolante. E' anche più igienico. Sì, molto. E si risparmia addirittura sulla sala operatoria. Quindi si possono operare più pazienti. Ci sono persone che hanno il cancro e siccome gli ospedali sono pieni e non c'è tempo, devono attendere. E quel tempo d'attesa è terribile. Quindi tu hai avuto prodotto Crystal Bra? Sì, sì, ma io ho 7, 8, 10 benefici anche testati da donne che hanno, però prima, prima, sapevano a cosa andavano incontro, non hanno seguito più i medici e autonomamente hanno voluto comprare quella cosa. Perché sapevano che non erano... Dico, ma tu mi spieghi questa cosa? Quindi da sola stavo soffrendo la parte... Hai un tuo prodotto, il prodotto? Sì, sì. Adesso che cosa stai cercando? Adesso sto scrivendo un libro su questo, su come bisogna cambiare il modo di vedere. Cioè, se un dottore ti dice quello, ormai la scienza ha un raggio enorme di informazione. Quindi è giusto che tu, anche la Ollus stessa, purtroppo spegla... Io la conosco, l'ascolto ogni volta che mi dice vado alle Ollus... Se l'ho facendo le cose di giro e mi chiedono solo soldi, mi chiedono solo soldi... Per farselo autoprodurre... E nessuno mi dice grazie. Io ho speso... Grazie a Dio sono viva, potevo non esserci, no? Certo. Quindi ho visto tanta gente con le piaghe, con le sofferenze, persone che mi hanno salutato e mi hanno detto ci vediamo all'al di là. A me sta roba mi ha segnato, per il scienza. E quindi mi trovo a fare una battaglia per il progresso. Tutto qua, continua comunque a durare. Come donna, per le donne che però, le donne tornano a casa, saltano, abbracciano i figli, il marito, cioè tante cose che prima erano obbligate a non fare per l'immobilità, perché se tutti muovi poi divengono, che si strappa tutto, divengono un sacco di problemi. Quindi insomma sono 15 anni che io sto in mezzo a questa storia, ora piano piano oltre la punta dell'iceberg non posso andare, sono arrivata ai posti più importanti. Sai, c'è un'insaturazione. Eh sì, faccio un giro di boa, se lo capite bene, se no non sta a me, capisci? Cioè io arrivo a un certo punto, dopo 15 anni, riprendo a dipingere, a fare cose, insomma. E già che lo riprendi già è... Sì, e scrivo comunque. Ecco, è un'esperienza, ma comunque... Io sono una di quelle persone che vengo dalla pittura e sono stata costretta a scrivere questa cosa. Non devi dire se non è stata costretta. Questo è un messaggio. Non è una gestimonianza, però come non è un messaggio piano. È un mio messaggio, è la scuola del suo punto di contatto. Se ognuno di noi si scorcasse le proprie manine, e i miei figli dicono sempre, che vengono dagli scout, se ognuno facesse solo il 5% di quello che gli tocca, gli scout se non lo fai te cacciano però. Bene, allora adesso abbiamo anche una persona che ci ha aiutato praticamente stasera, con generosità e amore, a fare delle riprese. E... beh, presentati, chiedici la tua pagina Facebook e comunque questo del resto a tutti. E poi, insomma, ci racconti dei tuoi progetti futuri. Ok, allora io sono Gianluca Mei, mi potrete trovare su Facebook, ma anche su Instagram, come Gianluca Mei, Radio Stay Rock, che è la web radio, web tv che gestisco da anni, con cui abbiamo anche più stato Milante Placido, Vorgan, Modena City Ramblers. E sono come regista il mio quarto film, che si chiamerà Proserpina. La bellissima Chiara sarà Afrodite, lo anticipiamo già, tanto non c'abbiamo paura di niente, assolutamente. Oggi tu sei Alessina della Vittoria. Sì, sì, si chiama Vittoria. E... E... Ho fatto tre lungometraggi, uno dei quali parla di Napoleone, aiutato, ucciso da 007, strani intrighi di potere, un altro che parla di una ragazza che si suicida con Psicofarmaci, che sciogli, avrà una storia nel trip mentale di quando muore, con Il Restino e la Morte, personificati dai due grandi attori, Marcello Sambani e Marco Palladini, che è anche un grande poeta e scrittore, e quindi porta avanti tutte le mie varie attività. uscirà a dicembre il mio cd cantautoriale Ramingono la Terra dell'Oplio. Mi è capitato di essere uno scrittore citato al primo campiello come romanzo sperimentale, con l'ultimo sofista pensieri, si ama così il romanzo, e quindi vivo, faccio, viaggio. Infatti te volevo chiedere, che cosa è per te la creatività? La creatività è tutto, perché è quello che rigenera la sensazione moribonda del trascinarsi giorno dopo giorno in qualcosa di bello. Anche nelle relazioni, senza creatività muoiono. Con la creatività invece si rigenera tutto continuamente. E anche a te chiedo come immagini, a parte il tuo futuro, regista immediato, che ce l'hai già detto, come immagini il futuro per te? Da solo, un decadente aristocratico, decaduto più che decadente, alla Carmelo Bene, che non è. Bene, benissimo. Allora, su questo non è che chiamo questa non intervista. A te, grazie. Allora, Elmi, innanzitutto fai un saluto agli ascoltatori di Radio, Radio, Chat, News. News. Il programma si chiama? Il programma si chiama? Quarta? Quarta? Dimensione. Dimensione. Bene, va bene. Sono quasi preparato. Ma non fuggirei di qua, non lo so perché fuggere. No, 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 ecco. Bene, stasera abbiamo intervistato tantissimi artisti, lui è un artista completissimo, originalissimo, e quindi presentati attraverso la tua pagina Facebook, che è un modo per intracciarti, per trovarti. Sì, la pagina Facebook che è Emiliano Negro, che potete trovare lì, e in più anche un sito web, emilianonegro.it, dove potete ascoltare il mio disco, che è questo, che ho fatto due anni fa, un disco in dialetto romanesco, Spiritus Noci, ecco, se lo volete ascoltare, mi fa più scherzo. Ascoltatelo, perché è un bellissimo disco. Grazie. Roma, nel tuo cuore, che cos'è? Beh, a Roma, insomma, ci sono nato, e poi il disco nasce proprio da alcune poesie di mio padre, che è nato a Burgupio, infatti c'è una canzone che parla di questo quartiere, e parla di una Roma da una parte un po' sparita, però insomma, che ancora vive nella mia memoria, nel mio cuore, perché insomma, ci vivo, e mi è piaciuto mettere insomma, in musica anche alcune poesie di mio padre, oltre che a dei testi miti. Abbiamo parlato oggi molto di rapporto madre-figlio e padre-figlio con Andrea e le verità così belle, così importante come voleva di sapere un idroggio. Nel tuo caso nasce questa tua idea creativa nasce appunto da delle poesie di tuo padre. Che cosa per te che cosa è il rapporto diciamo con la figura delle persone che ti hanno presentato come eredità? Beh, c'è sempre diciamo la memoria perché vivevano sicuramente una realtà differente Roma è cambiata devo dire che è cambiata anche in questi ultimi trent'anni insomma da quando ero adolescente e poi maggiorenne cominciavo a girare Roma e quindi a conoscerla meglio a girare in centro a vedere i suoi insomma i suoi tesori artistici monumentali e Roma è cambiata è cambiata ancora di più quindi è questo tramandare insomma un po' la memoria storica di Roma ma anche di tutti i giorni e nel dialetto poi c'è anche un modo di esprimersi che capita e questo insomma viene anche affrontato in questo disco perché il dialetto l'ho scelto proprio per rappresentare Roma al meglio sì e in maniera molto creativa veramente veramente bene io mi ricordo sì grazie mi ricordo quella canzone bellissima che mi piace tantissimo come si chiamava Roma sì beh c'è una canzone che proprio porta il nome della città insomma di Roma è una canzone che apre poi il disco e poi ce n'è un'altra quella che è Borgopio che è quella a cui sono più diciamo legato perché è stata la prima la prima poesia di mio padre che ho messo in musica e che quando la canto insomma mi viene sempre un po' di emozione eh sì e si sente la domanda di oggi è stata anche questa come immagini visto che il quadro insomma il libro che presentavamo si chiamava si chiama Vittoria come immagini il tuo futuro e la tua Vittoria che cosa desideri beh desidero almeno realizzare un altro disco cantare altre canzoni eh sì almeno divertirmi con questa mia passione che è la musica che la porto quando sono un bambino poi questa passione la coltivo cerco di coltivarla il più possibile e di tenerla in vita bene allora c'è anche tanta musica su Radio Chad la nostra quarta dimensione per ora è tutto andiamo a scoprire le altre 39 perché Andrea Ungheri ci ha detto che sono 43 e a presto tanto cerchiamo queste dimensioni dove stanno? un saluto e un ringraziamento grandissimo a Gianluca a me che insomma oltre che un bravissimo artista è anche stato il nostro braccio delle riprese operatore alla macchina operatore alla macchina braccio così in maniera molto prosaica ciao ciao scendo dal letto e mi stiracchio un po' prima di posare i piedi nudi sul tappeto caldo e morbido di lana cotta infilo le ciabatte mi aspetta una dura giornata di lavoro e tante faccende da sbrigare per offrire a tutta la famiglia il cenone della regina di Natale apro i vetri della finestra per tirare sulla tapparella c'è ancora l'odore di fritto di ieri sera è l'occasione di rientrare per tempesta il mio gattone tutto nero con due smeraldi per occhi mi fa un sacco di fusa che ricambio volentieri poi mi segue fuori a sganunciare le sue adorate crocchette mentre sistemo la caffettiera sul fornello e attendo il suo aroma un burro al pan carré e spalmo una marmellata che ho confezionato in casa raccogliendo la frutta dagli alberi del mio giardino ne addendo una piccola porzione davvero deliziosa chiudo gli occhi soddisfatta è il primo piacere della giornata me ne auguro tanti altri lascio quell'aroma del caffè tenetri dentro le mie narici ho ancora gli occhi chiusi adoro concentrarmi sulle mie sensazioni mi sento viva e pena di energia spengo il fornello ne verso un po' nella tazzina di ceramica bianca decorata da fiorellini rossi e mentre si fredda afferro un post-it nel tentativo di elencare tutte le cose da tempere oggi prima di tutto la spesa manca qualche regalo bevo intanto il caffè a piccoli sorsi e alzo la testa nel tentativo di concentrarmi per contare mentalmente quanti nipoti ho ne avrò dimenticato qualcuno e sorrido sono la mia gioia più grande ho acquistato ogni regalo immaginando la felicità che avrei letto nei loro occhietti quando le avrebbero scartati mi figuro seduta per terra accanto a loro adoro vestire i panni della nonna giocherellone poca attenta alla rottura delle cose che sono in casa preferisco che giochino e si sentano liberi di farlo impedire di giocare impartire regole una cosa che spetta ai genitori nella mia posizione di nonna posso godermi le fatiche delle loro mamme pensando che un po' di saggezza glielo ho impartito anche io e adesso stanno facendo del loro meglio per la loro famiglia come feci io al suo tempo sacrificando tutta me stessa per loro nessuna delle mie figlie conosce tutta la storia perché io non amo vestirmi di saggezza preferisco che sia lei la saggezza a dire che abita a casa mia amo vedere la gioia nelle loro vite segno che le scelte che ho fatto non le hanno ostacolate tra una vicissitudine e l'altra ho guidato il mio carro pagato i miei prezzi e compiuto le mie scelte io non oso neppure immaginare come sarebbe andata se avessi agito diversamente con finta del fatto che ad ogni azione ne corrisponde una uguale e contraria ho deciso molto lucidamente di mettere la famiglia al primo posto al di sopra di tutto perché quello che avevo avuto io era stata una netta delusione io volevo dimostrare che si poteva fare di meglio inoltre era rimasta incinta giovane adolescente e l'apporto con Giorgio non era mai stato abbastanza solido e poi avevo sposato Angelo per creare una famigliola che perfetta non è stata mai l'unica verità è che ricordo che ho deciso che la mia vita in quell'istante era compresa nel suo no le mie dita sfioravano le foglie di quercia del casale dei nonni mentre questa centenaria pianta mi regalava stabilità e sicurezza era stato lì in quel momento che ho realizzato la direzione che avrebbe preso la mia vita l'amore per Giorgio mi ha illuminato il percorso che in realtà avevo già iniziato senza accorgermi perché mascherato del fatto che sposavo Angelo solo per stabilizzare una famiglia in realtà quella era la mia volontà la stessa volontà che intendeva punire Giorgio per il suo comportamento ignobile gli fuggiasco davanti alle situazioni difficili aveva lasciato che sua madre decidesse per lui senza muovere un dito fuggiasco davanti davanti alla mia più pancia che cresceva e poi alla sua figlia un uomo posseduto dalla paura la stessa paura che ogni giorno leggevo negli occhi di mia madre paura di mio padre delle botte incapace di sottarsi a un destino difficile ma è più facile suicidarsi che affrontare tutto questo pensavo lasciando me a marcire dell'inferno da sola adesso ero in grado di dare un nome a tutto questo incapacità sì incapacità di accettare tutto ciò che la vita ti ha donato perché ogni cosa è un dono se allora non avevo potuto per decidere per mia madre oggi potevo scegliere chi avere al mio fianco chi lo voleva un compagno pauroso come Giorgio avrebbe avuto paura di tutto Angelo Angelo invece accettava la fede di un altro come io accettavo la sua un scambio reciproco che equilibrava la nostra convivenza non chiedetemi che abbia sudato di più per realizzare questo progetto penso lo sappiate già adesso finalmente ho con me il responsabile di tutto ciò di questa serata l'irresponsabile che andremo guardiamo subito io dico sempre subito le pagine facebook perché poi le persone vedono le interviste e poi dicono dove la trovo questa persona polmone pulsante cerchi i polmone pulsante su facebook su google maps su internet trovi i vari siti anche su google maps lo trovi clicchi e ti dà il tour virtuale poi il link anche a Facebook è una cosa bellissima instagram instagram a presto a presto bene Andrea apri una locandina perché come giustamente diceva prima si fanno cose bellissime questo posto bellissimo che ogni tanto che ogni tanto che ogni tanto trovo qualcuno che dice non conosco il polmone pulsante ma come una delle cose più belle di roma diciamolo anzi ripetiamo l'indirizzo non l'abbiamo mai tanto è uno dei posti veramente più belli di roma e tra le tantissime cose che ci sono qui un recito al poetico di Diego De Nadai che sarà sabato prossimo 16 novembre 18 e 30 Diego De Nadai è un attore insomma ha già fatto delle bellissime performance qui quindi invito tutti a venire e poi come sempre avremo la visita al museo sul terraneo che è il museo delle opere di mio padre con la chicca finale che la sarà affrescata da qualche artissimi sigani io vi invito anche ad andare a leggere la storia del polmone a informarmi perché è veramente un bellissimo posto e ci sono anche delle fisette molto buone di solito che è un po' di forno dei serpenti il famoso forno dei serpenti che è insomma pubblicità meditata tu in qualche modo hai ereditato una grande eredità però insomma la stai portando avanti con coraggio determinazione e tantissimo amore questo polmone che cosa significa per te fare cultura? domanda da 100.000 dollari io dico sempre questa frase la tua ci salverà conoscersi conoscere scoprire o riscoprire quello che effettivamente è il suo valore nella nostra storia ci aiuta per orientarci in questo periodo trovo assolutamente difficile anzi complesso se non complicato quindi mi piace che sia anche risolvibile la cultura è l'unico mezzo con il quale possiamo forse aprire un po' con gli occhi con l'accia indietro per capire cosa si vengono a fare e poi sono momenti di condivisione di esperienze di emozioni che hanno un valore vivatissimo io devo dire sono contentissimo di queste iniziative tante amicizie tante sorprese tante bellissime esperienze bellissime momenti passiamo insieme di qui beh bellissime esperienze bellissime emozioni bellissimi quadri ne abbiamo moltissime questo questo è un quadro bellissimo nel 69 è una natura morta di uno degli esperimenti che fece papà quando dice a usare gli oli e il materico il materico esattamente mi vedeva mi voglia di mangiarlo questo qua stiamo un po' riproponendo queste vecchie opere di papà dagli anni 50 fino alla fine degli anni 60 infatti questo è passato no? però oggi insomma la domanda del giorno perché il libro si chiama vittoria come immagini il futuro del scrimone e il futuro di questa casa e della cultura che tu con tanto amore diffondi? è una grande sfida effettivamente e quindi io voglio essere un ottimista sarà una vittoria e ci voglio credere sarà una vittoria grazie al contributo di tutti ma è una grandissima scommessa perché la bisogna di la sostenibilità è difficile quindi l'aiuto di chiunque insomma venga partecipi collabori con noi è un insomma è un portatissimo e fondamentale è una scommessa per mantenere tutta la storia di 42 anni di attività pubblicarali iniziate da grandi nomi che ha il maconino da ciamagaini calorezzati che hanno animato il polmone e bellissimi tempi e spero di ritrovare anche qualche no qualcuno insomma che venga a ricordare quei momenti qui e poi anche la figura di parma un artista fa parte da scommessa che forse dovrebbe essere un attimino ripreso e riconosciuto e chissà la potenza che c'era ma questa è una milla mostra e poi stavo pensando proprio di porti questo e farlo magari se vuoi da me si potrebbe fare e soprattutto diciamo che è uno spazio aperto diciamo aperto alle collaborazioni aperto alle persone che vogliono iniziare a fare qualcosa a fare mostre e diciamo che questa è una cosa molto importante è uno spazio aperto assolutamente sì aperto a iniziative anche coraggiose e poi in effetti abbiamo anche piccolo riconoscimento del Comune di Roma a primo di 5 dell'Ambasciata del Messico grazie a proprio questa iniziative inter-fascolare fatta con gli artisti messicani e italiani e collaboriamo con la Kermesse Roma Parigi una volta l'anno con il Giorni Contemporanei con l'Open House siamo in un network di gallerie sia romane che internazionali collaboriamo con la Galleria Capituna di Madrid abbiamo collaborato con le Gallerie del Belgio abbiamo una collaborazione con la St. John University di New York insomma tante piccole cose che piano piano ci stanno facendo diciamo allargare un pochino nello spargere a modo nostro e di futuro bene allora salutiamo i nostri ascoltatori di quarta e di oltre dimensione perché qui veramente si parla di molte dimensioni in questo spazio e grazie insomma alle intuizioni genialissime di tua parte forse anche la quinta dimensione io lo so ma si parla di 42 dimensioni siamo enti fisici quindi posso dire che abbiamo ancora da aggiungere bene un bacio a tutti grazie un abbraccio penso grazie insieme bene bene allora abbiamo qua una scultrice che è in linea con la nostra scultrice di oggi perché il nome si chiama Vittoria tu hai una pagina facebook? sì ho una pagina facebook io sono una scultrice una pittrice però diciamo che questo filo d'oro l'ho trovato attraverso le sofferenze anche di questa disparità tra uomo e donna cioè a me è stato detto tu non fai l'università tu non fai il liceo e io l'ho fatto lo stesso come dice siamo in sicurezza ho lavorato sul filo mi sono messa a lavorare e tutto questo ha creato la fermata del prego un pathos interiore una ricerca eccetera che poi è sfociato per fortuna in una ricerca poi di due stesse quindi dell'essenza della vita e quindi dell'arte cominciato con la pittura e poi e poi procede ancora e poi lavoro ancora senti infatti proprio questo ti volevo chiedere noi dicevamo prima ci sono normalmente le femmine sono quelle postizioni poi però nei luoghi di potere non sono tante donne quanto c'è da lavorare ancora da parte delle donne perché tu sono le donne che hanno paura di averli poteri di scuola si in parte però per come va la società oggi con questa pienezza di impritte politica io non lo so io ho trovato la politica che pesava nel mio lavoro non il fatto di essere donna io non ero penalizzata dal fatto di essere donna ero penalizzata a non avere appoggio quindi è arrivata a una certa posizione non era qui e mi piace avvisare il fatto che non c'erano sufficienti protezioni infatti volevo chiedere a una persona che inizia di un ragazzo o una ragazza che inizia all'accademia vuole cominciare a discorre cosa è una cosa che non dovrebbe fare per me una cosa che non sente seguire il proprio istinto e fare quello che sente io ho prima investito in cultura e in studio e in lavoro quando vi sono diciamo avevo una sicurezza e una stabilità allora diciamo è come se avessi fatto un filtro delle delusioni delle mancanze e tutto questo è fluido in modo naturale e prorompente però non è stata una scoperta a proposito tu hai ancora con il catalogo qua che vedevo prima no poi lo facciamo vedere dopo sono curiosa io sono curiosa di farlo sapere nel catalogo ci sta visto che me lo chiedono in posti la mia riscita ho capito l'inizio ho scritto da me poi io dico come ho iniziato perché ho cambiato ho cambiato genere ti volevo chiedere come nasce l'idea di un quadro di un quadro quello che vivi di qua intorno le sensazioni sono infinite non c'è un motivo per cui nasce un quadro c'è una sensazione da quella si sviluppa il quadro si sviluppa poi è diventata giura vai a leggere il capitoletto quindi dico come si è mossa questa mia ricerca dal nulla io non avevo studiato neanche disegno a scuola perché ho fatto il liceo pratico con una laurea in scienze politiche poi lavoro quindi non avevo idea poi sono state le emozioni le sensazioni che si sono affastellate e da lì sono fatte quindi diciamo il tuo paginetto ho cercato proprio per gli altri di specificare come è successo quindi diciamo che il quadro esiste già alla realtà in qualche modo e a proposito di realtà qual è la tua immagine di futuro che immagini per te magari l'augurio che vuoi fare la cosa esatta tu no l'augurio di essere se stessi guardarsi dentro guardarsi fuori e cercare di armonizzare se stessi non vedo altra strada se non quella della esistenza della collaborazione dello stare insieme economicamente compresa la dialettica uovo-donna che ormai va portata a condivisione a crescita comune no non ci vada nessuna parte allora i nostri ascoltatori di quarta dimensione shock abbiamo curato al combattere e ad armonia baci come vedete a Radio Charlie sono anche gli inviati modello orsetto sì me l'ho dimenticata una domanda fondamentale che stavo dando via però la devo fare qui nel futuro del polmone c'è c'è una figura fondamentale come si potrebbe organizzare di nuovo il polmone con un aiuto fondamentale sì io non solo è chiaro che non posso gestirlo comunque adesso siamo organizzati con tantissimi collaboratori ma c'è una figura che è fondamentale che è la direttrice artistica Rosa Orsini che è veramente brava con lei stiamo facendo progetti veramente interessanti ha fatto due bellissime mostre in armonia e composizione delle collettive che hanno avuto molto successo e insomma abbiamo dei progetti già stiamo facendo un calendario che arriverà al giugno dell'anno prossimo più ripeto forse una mostra l'abbiamo sta fuori importante delle opere di Malware insomma Rosa Orsini devo dire una persona eccezionale è una persona serissima però per un attimo quando ha detto calendario ho immaginato il calendario 2020 fatto da Andrea Ungheri no assolutamente no vabbè facciamo anche ridere se ce ne mostri forse posso partecipare bene e prima di salutarvi con l'ursetto voglio di nuovo ringraziare e salutare anche Gianluca a me vieni vieni ma se no rimani rimani voglio un saluto a tre che giustamente si è così è una bellissima luce che ci vuole citare un'altra cosa fondamentale che è si un posto meraviglioso che è un vascello per gli artisti per incontrarsi per ritrovarsi e conoscersi che è la Camera Verde che è a piramide in via Giovanni Meani numero 20 il fantastico direttore Giovanni Andresi non c'è là perché niente però è invece un posto di futuro contro contro Facebook contro Facebook però è sicuro c'è la Camera Verde la Camera Verde senza altro è in ogni istante in ogni luogo bene allora un bacio di nuovo a tutti voi e state nella quarta dimensione che però Andrea ci ha detto che sono 43 quindi va bene dobbiamo trovare le altre 39 vediamo un po' faccio che lo faccio grazie a tutti grazie a tutti